Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Torna dopo un po' di partite la collaborazione con Mondo Calcistico, la pagina che dedica molto spazio alle analisi tattiche delle partite e delle situazioni di gioco. Oggi torna dopo il derby, un derby che si è visto con la vittoria 2-0 per la Juventus, un derby che ha visto due gol di cui uno anche con le polemiche, ma al di là di quello, oggi voglio soffermarmi insieme a Mondo Calcistico su alcune fasi di gioco a prescindere dai gol, quindi non tanto sui gol ma su come si è disposto la Juventus in campo in questa partita. La sigla e poi iniziamo. Allora, ieri abbiamo visto una partita che nel bene e nel male è stata decisa, diciamo, da Matuidi, nel senso che Matuidi del centro campo è stato quello più incisivo. È un giocatore totale che riesce a fare molto bene entrambe le fasi. Nel momento in cui però sbaglia qualcosa anche in fase propositiva in avanti, ne perde un po' tutto. Questo perché è un giocatore che, quando rende al 100%, anche dal punto di vista tattico, non solo fisico, è un giocatore, secondo me, fondamentale per questa squadra. Troveremo Matuidi non tanto in queste azioni, ma come nel contesto generale, appunto per calcare quella che è la sua importanza reale all'interno di questa rosa. Io partirei intanto dalla disposizione, come vedete in questa foto, della difesa. Nella fase difensiva, anche se questa è una situazione di pressing, come vedete di balla stando verso il portato di palla del Torino, è un 4-4-2. Come sappiamo, Allegri predilige un po' il modulo fluido, cioè nel senso che quando inizia la partita, la formazione te la dicono in un modo, 4-3-3, 4-2-3-1. Spesso in fase difensiva è un 4-4-2, che poi si sviluppa in un 4-2-3-1, o in un 4-3-3, che è visto come 4-3-3 inizialmente, ma che in realtà è semplicemente un'interpretazione diversa di quello che è un 4-2-3-1. Spesso è così, o 4-4-2. Questo perché comunque in base all'interpreteria si possono fare delle cose diverse, anche tenendo più o meno la configurazione del gioco simile. In questo caso la difesa è un 4-4-2, come vedete è abbastanza nitida, lo schieramento, i difensori non ci sono, ma ovviamente sono dietro perché altrimenti li vedreste. Abbiamo Costa sulla destra, con Marchisio, Pianic, Matudì, più o meno allineati, ovviamente ne sono i pressing, quindi in quanto pressing Pianic inizia a chiudere quello spazio che vedete in mezzo, con Manzucchi e Givalla, che sono i due terminali offensibili. Questa cosa qua è abbastanza chiara, nitida. Allora, come sappiamo ormai Pianic è il nostro regista, cioè vuol dire un giocatore dal quale inizia sempre l'azione, spesso troviamo Pianic in questa posizione a retrato in cui vedete la foto appunto. Sturaro passa la palla a Pianic, che va a prendersela per iniziare il gioco. Allora, qua il discorso è che il Torino ieri, secondo me, e secondo anche il mondo calcistico, ha difesa molto bassa, il problema è che il Torino ha dei problemi di fase difensiva, e il fatto di rimanere bassi non vuol dire che sia organizzata la difesa, infatti poi abbiamo visto i miei gol anche come arrivano, e come comunque sono arrivate anche altre situazioni di gioco pericolose per il Torino, cioè a favore della Juventus, chiaramente. Però chiaramente, in questo caso, nel momento in cui è basso, ci sono delle posizioni dei giocatori nostri, che sono da rivedere. Pianic per la Nepalla, a Samoa è molto avanti, però con una squadra così bassa e con un Matuidi, come detto prima, molto importante in questa fase di gioco, Matuidi è troppo basso per aiutare la Juventus in questa fase offensiva. Con una squadra molto bassa come il Torino, Matuidi così bassa non serve a nulla. Ecco perché poi alla fine Matuidi dovrà veramente rivedere questa posizione, nel momento in cui Pianic prende palla, avere Marchise e Matuidi così vicini, così detrati, è poco funzionale. Ecco, questo è lo sviluppo di quella stessa giocata, con Pianic inizia. Guardate il minutaggio, 7-0-6 prima, 7-14 adesso, quindi sono passati pochissimi secondi. Questo è quello che dicevo, dov'è Matuidi? Matuidi non c'è. Ecco perché Matuidi ha iniziato troppo basso la sua galoppata, tenendo molto isolati, molto là, da soli, così, Mandzukic e Samoa. Il movimento di Samoa e Mandzukic è molto buono, cioè a Samoa dalla palla Mandzukic per poi tagliar dentro, con Mandzukic che si porta via un uomo all'esterno, e entra poi della passa. Il problema è che senza un altro uomo di supporto, in questo caso Matuidi, di superità numerica, si crea ben poco. Cioè, voglio dire, cosa può fare? Per quanto, ovviamente, come vedete, il buco, è palese il buco che c'è in difesa. Quello è un bucaccio, proprio errore madornale. Come detto prima, il fatto che il Torino sia molto basso non vuol dire che sia organizzato bene, difensivamente. Certo però che se il Juventus attacca in due, come in questo caso, possono essere scherati anche mali, ma pur sempre ci sono quanti uomini? Sette uomini, ecco. Quindi, chiaramente, Matuidi dovrà essere ben più avanti. Infatti, il tutto finisce così, con la Samoa che va verso il fondo, ma non trovando nessuno in mezzo all'area, quindi non potendo accrossare perché avrebbe corsato sulla testa, o tra le mani, di Milinkovic-Savic, cosa fa? La passa indietro. Con l'unico giocatore, Marchisio, che inizialmente, al fotogramma prima, quindi 13 secondi prima, era quello più arretrato rispetto a Matuidi. In questo caso, Marchisio è molto propositivo, tira fuori un po' il giocatore da inserimento che conosciamo tutti, e si propone. Chiaramente, la cosa non è che vada a buon fine per quanto riguarda Marchisio, perché? Perché chiaramente a Samoa la dà indietro, ma c'è poca superità numerica. Ecco che, come detto prima, la squadra deve essere più alta, soprattutto quando la squadra come Torino è più bassa, altrimenti si creano dei buchi enormi che non vai a sfruttare. Ecco invece che vediamo una situazione in cui Matuidi è reattivo, è proattivo per quanto riguarda l'azione di gioco. Come un da glascosta da destra, ma come vedete c'è tutta la squadra molto più alta, pure se è un cittorino molto più basso, basso come prima comunque, con le difensive e il centrocampo molto basse, però in questo caso è un Matuidi che fa il gioco, lo stesso gioco che solitamente fa Mandzukic da esterno. Come vedete attacca il secondo palo inserendosi proprio in quella traiettoria là. È la cosa che solitamente fa Mandzukic, che oggi, che ieri, scusate, ha fatto Matuidi, appunto, perché Mandzukic è giocato molto di più come prima punta, quindi come terminale offensivo, ruolo solitamente dato a Higuain, però Matuidi in questa occasione ha fatto la cosa giusta, quello che deve fare, cioè inserirsi bene sul secondo palo e creare in qualche modo superità numerica. Bene ragazzi, il video finisce qui. Intanto ringrazio, come sempre, il mondo calcistico, per ovviamente la collaborazione, ma anche per l'immagine, per le analisi tattiche interessanti. Sono cose che, così, una prima visione della partita non cogli, nel senso che, ieri, le Juventus, ho giocato bene, ecco, a di queste situazioni in gioco. Però sono situazioni in gioco interessanti da vedere anche in prospettiva, nel senso che, nel momento in cui giochi contro Torino, alla fine ti va tutto bene e morta là. Nel momento in cui giochi con squadre più forti, devi stare attento bene alle distanze giuste da tenere in base alle fasi difensive-offensive. In fase difensiva, la Juventus, credo che non abbia problemi. Fasi offensiva, evidentemente, qualche volta, si possono trovare occasioni del genere, in cui, non tutti aiutano, Matuidi è un giocatore fortissimo, anche ieri, in quell'azione precisa, ha peccato un po' di sostanza. Nel momento in cui, Matuidi, come nell'altra azione che vi ho fatto vedere, gioca bene, gioca in modo intelligente, fa la cosa giusta, tutta la squadra ne beneficia. Però chiaramente i gol arrivano anche così, anche con la sommatoria di azioni create, di situazioni di gioco favorevoli. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui, ci vediamo in prossimo video che sarà quel che sarà, come sempre, Forza Juve, e alla prossima. Ciao! Paura, 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 Paura.